L'agricoltura siciliana è uno dei settori che più ha patito il cambiamento climatico e anche per questa ragione fortemente in crisi negli ultimi anni. Il governo regionale guidato da Renato Schifani ha subito posto l'accento sulle difficoltà del settore che da oggi potrà contare su oltre 85 milioni di euro. È una boccata d'ossigeno per un settore che merita attenzione e aiuto. Questi finanziamenti rappresentano un segno tangibile dell'attenzione del governo regionale, ha detto l'assessore regionale all'agricoltura e alla pesca Luca Sanmartino. Circa 35 milioni di euro serviranno per la creazione e il mantenimento di laghette artificiali utili non solo all'approvvigionamento idrico ma anche al contrasto del dissesto idrogeologico. Due stanziamenti da 25 milioni di euro ciascuno invece aiuteranno gli allevatori e gli agricoltori. Mezzo milione infine aiuterà gli apicoltori siciliani che hanno dovuto affrontare spese straordinarie per l'alimentazione delle api minacciate da cambiamenti climatici e da fenomeni atmosferici avversi. È un intervento che deve anche essere visto come un segnale di particolare attenzione in una fase difficile come quella che stiamo vivendo per un settore considerato fondamentale da questo governo regionale, ha concluso San Martino.